segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora non mi risulta che mario draghi l'abbia fatto non mi risulta che giuseppe conte l'abbia fatto non mi risulta che gentiloni l'abbia fatto non mi risulta che letta renzi l'abbiamo fatto questa manifestazione e questi saluti romani avvengono tutti gli anni da 45 anni l'eccidio è stato nel 78 e più o meno da qualche anno più tardi questa commemorazione avviene tutti i sette gennaio tutti i sette gennaio avvengono queste scene persona più persona meno non è che sono promette sono anche di meno di alcuni anni e pre tanti sono il gesto sempre sempre tanti sono sempre tanti sono sempre tanti sono il gesto è deplorevole io non sono fascista non ho nulla a che fare né con la msi né con a n né con fratelli italia né con niente di questa di questa realtà con danno il fascismo in tutte le sue forme in tutte le sue manifestazioni però ricordo che intanto nessuno sono andato stamattina per curiosità a rivedermi le agenzie delle sette dell'otto gennaio degli anni scuoli gli ultimi sei o sette anni nessuno è intervenuto per sollevare questo grande scandalo dei bracci alzati alla calarenzia e bracci alzati alla calarenzia fate una ricerca ci sono tutti gli anni tutti gli anni quindi io non credo che tutti i premier degli anni scorsi degli ultimi dieci anni abbiamo coperto i fascisti ad accalarenzia ricordo che queste sono persone formazioni sono nostalgici che fanno parte di formazioni politiche anti governative perché sono quelli di casa pound sono quelli forza nuova sono contro il governo e contro fratelli italia ricordo che ci sono aspetti un attimo ricordo che ci sono delle sentenze della cassazione che stabiliscono esattamente il perimetro della legge scelba sul reato di apologia di fascismo il reato di apologia di fascismo è quando delle persone tentano di ricostituire il partito fascista non quando alzano la mano con memorazione credo che